Nessuno a Ravenna vuole svegliarsi dal sogno che i giallorossi stanno vivendo dall'inizio di questa superlega. Un sogno di grandezza, se è vero come è vero, che la corsa dei ragazzi di Cozzoli ha incontrato un unico ostacolo alla prima di campionato. Il KO casalingo contro la LPR Piacenza, che qualche segno sulla pelle della bunghia l'ha sicuramente lasciato. Perché quella clamorosa rimonta subita dagli emiliani è stato l'ultimo vero momento di defaianza dei bizantini, capaci di infilare una striscia di quattro successi pieni con tanto di aggancio alla terza piazza in solitaria, sempre in attesa di recuperare la partita di Civitanova il prossimo 22 novembre. Ora tocca a Verona sperimentare la consistenza delle ambizioni romagnole. Quella Verona tutt'altro che fatale ad aprile, quando i Ravennati seppero conquistarsi l'accesso alla Challenge Cup, superando la Calzedonia e, guarda un po', proprio Piacenza nella finale. Gli ex Mengozzi e Spirito cercheranno di mettere i bastoni tra le ruote ad una squadra, quella di Fabio Soli, che però cercherà di replicare citando in negrita. Ormai che ha imparato a sognare, non smetterà.